Sono state controllate 58 persone, 28 veicoli, elevate 7 infrazioni al codice della strada, complessivamente 18 soggetti sottoposti a misure cautelari, degli arresti domiciliari, 5 sorvegliati speciali e un sottoposto obbligo di dimora. Questo è il bilancio dei controlli del territorio da parte della Polizia di Stato in un'intera giornata. Inoltre 3 sono stati denunciati, 2 giovani, per essere stati scoperti alla guida di 2 ciclomotori, di cui uno è rubato, quindi sono stati denunciati per guida senza patente ricettazione, il proprietario dei ciclomotori e l'acquirente per guida senza patente. Un terzo soggetto di nazionalità romana è stato denunciato perché è trovato in casa dagli agenti al momento del controllo ed è stato denunciato in Stato di libertà per violazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora.